Un nuovo appuntamento dell'Associazione Cultura Nazionale, sabato 16 febbraio alle 17 alla Feltrinelli Pointy. La Comandante Alfa per presentarci il suo libro, perché questa scelta, cosa ci dobbiamo aspettare da questa giornata? È un grande evento, l'ennesimo di cultura nazionale, viene il Comandante Alfa, uno dei cofondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale dei Carabinieri, che ha fatto scuola in tutto il mondo. In questo bel libro, che si chiama Missioni Segrete, viene a raccontarci le missioni che ha fatto il GIS in giro per il mondo, per l'Italia. Molte missioni sconosciute ai più, inoltre in tutto quello che erano gli stati d'animo, l'organizzazione, il risultato di queste missioni che hanno fatto scuola nell'Italia e soprattutto nel mondo. Il Comandante Alfa ha portato in alto il nome dell'Italia nel mondo e questo ci rende orgogliosi della sua presenza sabato 16, quindi sabato prossimo alle ore 17 alla Feltrinelli. È per noi un grande onore averlo come ospite, Feltrinelli. I prossimi appuntamenti? I prossimi appuntamenti posso dirne due, perché sono quelli più prossimi, ma ce ne sono tanti altri in cantiere. Verrà Militello, il giornalista di Striscia Notizia, che verrà a presentare il suo libro ad Arezzo prossimamente, già credo a marzo. E poi verrà Alciato, in collaborazione con l'Associazione Italiana Arbitri qui di Arezzo, faremo una presentazione nella loro sede. E poi verrà Marcello Veneziani. Quindi altri grandi nomi che vengono qui ad Arezzo e ci onorano della loro presenza grazie a Cultura Nazionale.